Grazie a voi, grazie ad Associazione Libre e a tutti i partecipanti. Apro quindi dandovi il benvenuto, dicendovi semplicemente che sono criminologa di Cooperativa DAIC e ho l'onore di aprire questa serata dal titolo Perché la mia giustizia è diversa dalla tua. Inoltre durante l'incontro resterò a vostra disposizione per raccogliere domande e riflessioni che potete farci avere scrivendo nella chat. Questo webinar, ideato e organizzato da Associazione Libre Onlus, si inserisce all'interno del progetto Mediazioni, reso possibile grazie al finanziamento di Regione Lombardia e alla collaborazione ormai stabile di una serie di partner che da diversi anni lavorano insieme nel settore dell'inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La rete è ampia e vede riuniti il Comune di Mantua, capofila di questo progetto, Associazione Libra, Cooperativa Sociale Alcenero, Cooperativa AIC, CSV Lombardia Sud, nonché i sei piani di zona della provincia di Mantua, ATS Valpadana, ASST Mantua, sempre accanto a Casa Circondariale, UEPE di Mantua e Laboratorio Nexus, nato in seno a quest'ultimo. Proprio grazie al progetto Mediazioni possiamo ora compiere un ulteriore passo insieme, coinvolgere l'autore di reato, la vittima e la comunità. Le azioni previste comprendono il consolidamento e ampliamento del servizio generalista per il supporto alle vittime di reato, il monitoraggio e l'accompagnamento di percorsi di giustizia riparativa per coloro che scontano la pena in misura alternativa, lo sviluppo di competenze relazionali dei detenuti dell'Istituto Penitenziario Mantovano, percorsi formativi per operatori dei servizi, percorsi di responsabilizzazione e mediazione penale per autori di reato minorenni. Spiccano poi la creazione di uno sportello di giustizia riparativa, mediazione sociale e penale, nonché di uno sportello di ascolto e supporto alle vittime di reato con operatività su scala provinciale. Infine, tutti noi congiuntamente siamo costantemente impegnati nella promozione di riflessioni sulla giustizia. Ed eccoci qui stasera con due relatori eccezionali, Mauro Bardi, avvocato penalista del Foro di Milano e criminologo presso Associazione Libra, e Luigi Caracciolo, anch'esso criminologo e colonna portante di Libra Onlus. Due professionisti dall'enorme calibro, che con l'appuntamento di stasera e quello del prossimo venerdì ci racconteranno due modelli di giustizia, la giustizia retributiva e la giustizia riparativa. Perché la mia giustizia è diversa dalla tua. Dicevo buonasera a tutti, benvenuti, ringrazio Marzia Tosi per la sua presentazione ed entriamo immediatamente nell'argomento. Allora giustizia retributiva. Per iniziare questa nostra conversazione abbiamo scelto un'immagine simbolica, abbiamo scelto di rappresentare la giustizia retributiva che potremmo definire classica o anche reatocentrica con un'immagine simbolo. La dea Nike, la dea greca che ha in una mano la bilancia e nell'altro la spada. In termini simbolici, come è facile intuire, la bilancia è quello strumento che serve per pesare i comportamenti delle persone, quindi da una parte i meriti, dall'altra le colpe, mentre la spada è un elemento che separa e nel caso specifico separa il bene dal male. Ma che la giustizia non avesse una sola interpretazione era noto anche agli antichi greci perché accanto alla dea Dike ne abbiamo un'altra, abbiamo Nemesi, figlia di Oceano. Nemesi è una dea particolare per la giustizia greca, per l'immagine simbolica della giustizia greca, perché Nemesi distribuisce premi e punizioni. Quindi già nell'antica Grecia, come d'altra parte nell'etica niconomgea aveva già esaminato Aristotele, non vi è una unicità di concezione della giustizia. In questo caso la scelta che noi abbiamo fatto per affrontare questo argomento è una scelta estremamente netta. La dea Dike che pesa colpe e responsabilità e separa il bene dal male. Questo è uno delle caratteristiche, delle strutture portanti della giustizia retributiva. Buongiorno a tutti e grazie all'amica Marzia Tosi e grazie a Luigi e grazie a tutti i presenti. Io dovrò svolgere, chiamiamolo così, definiamolo così, il controcanto rispetto a Luigi e questo primo controcanto conterrà un richiamo di carattere iconico anche nel mio caso. Se la giustizia retributiva viene identificata da un punto di vista iconico, simbolico, dalla spada e dalla bilancia, io posso dire che se vogliamo operare un riferimento di carattere simbolico, di carattere anche semiotico alla giustizia riparativa, possiamo adottare la metafora dell'ago e del filo. Perché ago e filo? Perché l'ago e il filo sono quegli strumenti che usano i sarti in concreto per rammendare gli strappi e la giustizia riparativa dovrebbe essere quella giustizia che ha la funzione di rammendare, di ricucire gli stratti che la violazione della norma penale ha provocato nell'ambito della trama sociale, nell'ambito della trama comunicativa, nell'ambito dei rapporti patrimoniali, nell'ambito dei rapporti sociali, dei rapporti relazionali. Io vorrei dire un'ultima cosa rispetto a questo approccio di carattere simbolico. Se l'immagine che è stata proposta da Luigi è un'immagine ufficializzata, cioè chiunque quando vede la bilancia e la spada pensa alla giustizia. È da duemila anni che siamo abituati ad associare immediatamente, magari anche senza conoscere i motivi, ad associare la giustizia alla bilancia e alla spada. Mentre invece il mio richiamo è un richiamo che è stato costruito, che ho costruito io, non è ufficiale, non è accettato da nessuno ed è un richiamo di carattere simbolico e iconico che voglio proporvi e che riguarda appunto non l'opera di separare, di pesare e separare, ma l'opera di ricucire, l'opera di riparare, l'opera di ripristinare. ...itizia retributiva. Abbiamo indicato rispondere al male con il male. Da questo punto di vista c'è un'interessante riflessione che viene offerta da Gerardo Colombo. Io sarò necessariamente sintetico, il quale in qualche modo mette in relazione le caratteristiche della giustizia retributiva con un aspetto tipicamente religioso, nel senso che la giustizia retributiva in qualche modo è legata a quella che nell'esodo viene definita la legge del taglione, cioè in altri termini al male si risponde con la privazione della libertà di qualcuno. Ora sulla giustizia retributiva anche pensatori di calibro in qualche modo hanno offerto delle opportunità di riflessione. Kant addirittura nella metafisica dei costumi diceva delle cose che come dire insomma molto poco accettabili perché intanto stabiliva che la legge penale è un imperativo categorico, era tra i suoi imperativi categorici e che la pena deve essere inflitta al colpevole, quindi torniamo a rispondere al male con il male. La pena deve essere inflitta al colpevole semplicemente perché ha commesso un crimine. Anzi concludeva dicendo che dovrebbe essere giustiziato anche l'ultimo degli assassini affinché ciascuno abbia ciò che le sue azioni hanno meritato. In verità qualche secolo prima, diversi secoli prima, vi era già un'altra idea, ad esempio Seneca nel suo De Ira, parlando delle sanzioni per modernizzare il termine, diceva non si punisce perché si è commesso un reato, ma perché non si commettano più reati. Quindi come si vede i temi della giustizia retributiva in qualche modo hanno sempre posto dei problemi anche ai pensatori, anche agli intellettuali, anche ai filosofi. Questa idea che l'unico strumento per garantire la società dalla commissione del reato, quindi dal comportamento antigiuridico, sia rispondere al male con il male, è però un dato di fatto che da secoli ancora regge e che determina un'altra delle coordinate all'interno delle quali la giustizia retributiva si inserisce a pieno titolo. Sì, grazie. Luigi, se posso fare un'aggiunta, Hegel addirittura sosteneva che la pena è un diritto che spetta a colui che ha violato la norma, quindi era addirittura ancora più estremo nella sua concezione retributivistica. Abbiamo visto che per la giustizia reparativa al male si risponde con un male, a una privazione, perché in termini agostiniani il male è una privazione, si risponde, si reagisce con un equivalente, un contrapasso di reazione che è una privazione, privazione della libertà o privazione del proprio patrimonio. E qui vorrei già introdurre un elemento problematico. La giustizia retributiva si basa sul concetto che il reato, che la violazione penale sia il male, quindi teologizzando quasi un concetto giuridico, se vogliamo andando verso una prospettiva di teologia politica alla Carl Schmitt. E quindi abbandonando questo tipo di prospettiva possiamo guardare il reato sotto un diverso modo di di concepire, un diverso modo di pensare. Il reato non è il male, non è un male di carattere teologico, un male di carattere metafisico. Il reato è qualcosa d'altro, è una disfunzione sociale, è un disfunzionamento sociale. Il reato è una disfunzione comunicativa, il reato è una disfunzione anche di carattere emotivo, il reato da luogo è una disfunzione di carattere patrimoniale. Quindi al male, cioè alla violazione, a questa disfunzione si può rispondere con il tentativo di da un lato comprendere e non giustificare la violazione. E con il tentativo di recuperare la relazione interrotta e la disfunzionalità che era intervenuta tra l'offenda e la vittima. Aspettiamo la terza slide in modo tale, ecco qui. Ora diceva Mauro Bardi come si risponde al male. Bene, per la giustizia retributiva la risposta che si può dare al male è esclusivamente la pena. Ma come è vista questa pena? È una pena quasi asettica in qualche modo, perché è incentrata sul reato ed è incentrata sull'offender. Quindi non si occupa la giustizia retributiva se non marginalmente delle persone coinvolte nel fatto drammatico. Alla violazione, al comportamento antigiuridico si risponde con una sorta di procedure che sono per lo più predeterminate e sono volte esclusivamente all'applicazione della legge penale. Quindi non vi è un'attenzione nei confronti del contesto all'interno del quale anche il comportamento antigiuridico si è prodotto. Gli unici punti di riferimento sono l'applicazione della legge penale attraverso un procedimento che è predeterminato e precostituito. Sì, grazie. Ci sono due diversi modi fondamentalmente di agire sociale. C'è l'agire strumentale e l'agire strategico che è quello che corrisponde al modello della giustizia retributiva. Io vorrei introdurre un modo di agire sociale meno strumentale appunto e meno strategico e meno impositivo che è l'agire di carattere comunicativo. La giustizia riparativa agendo in termini comunicativi si incentra non tanto sull'offender ma sulla relazione che è stata strappata tra offender e la vittima e la relazione che è stata strappata tra la vittima e la società. Alla violazione si risponde in modo attento e costruttivo e risponde in modo attento e costruttivo la società in tutti i suoi tratti, cioè è la società che è coinvolta in questo procedere di carattere comunicativo. E qui anticipo un concetto che magari anzi sicuramente riprenderò in successivamente. Nei reati di danno dove c'è un danno è chiaro che vi è stata una disfunzione comunicativa e un disequilibrio tra l'offender e la vittima e qui è possibile un certo tipo di giustizia riparativa, reintegrativa, ma anche nei reati di pericolo o ad esempio nei reati che non producono una vittima vera e propria, una vittima identificata. Possiamo avere pur sempre uno strappo di carattere comunicativo. L'aver messo in pericolo la collettività è uno strappo di carattere comunicativo, è uno strappo di carattere sociale, è una disfunzione di carattere comunicativo. Pertanto la giustizia riparativa vuole riprendere il percorso interrotto, vuole riprendere lo strappo e sanare lo strappo. Mauro Bardi faceva riferimento a ricucire una relazione. Ecco, la giustizia retributiva in realtà non offre alcuna riflessione sulle conseguenze di un atto illecito. Dalla ricostruzione del comportamento antigiuridico ad esempio scompare la vittima e scompare il contesto sociale, per cui la giustizia retributiva ancora una volta non si occupa affatto di andare ad indagare, di esaminare anche le conseguenze di un fatto antigiuridico, qual è il contesto all'interno del quale è maturato. Tocca ripetere per l'ennesima volta che la finalità della giustizia retributiva si esaurisce con l'applicazione della pena, quindi è soltanto la sanzione che in qualche modo occupa i pensieri della giustizia retributiva. Tutto il resto, come ricostruire una relazione, che cosa in realtà è avvenuto all'interno del corpo sociale con la commissione di un reato, è qualcosa che alla giustizia retributiva semplicemente non interessa. È ancora una volta l'applicazione della legge penale che, come diceva Kant, diventa un imperativo categorico. Non si esce da questo imbuto. Lo scopo, il fine ultimo della giustizia retributiva rimane sempre lo stesso. L'applicazione della legge penale sia essa la più severa possibile perché non ha in animo nessun altro tipo di finalità. Grazie. Ho per un breve rinvio a quanto ho considerato in precedenza, specialmente nell'ambito della distinzione fra i reati di danno e i reati di pericolo e circa l'applicabilità del modello di giustizia riparativa a entrambi i tipi di reato. Il reato di danno è un reato che provoca un pregiudizio nei confronti di un soggetto determinato, nei confronti di una vittima determinata, ad esempio una lesione di carattere patrimoniale, una lesione di carattere fisico, una lesione dell'onore. Però ci sono, e qui possiamo immaginare una giustizia riparativa che metta a confronto e ricucisca le relazioni tra il colui che ha provocato un pregiudizio e colui che l'ha subito. Però la giustizia riparativa si applica molto bene e anche io direi con successo nella prastia, nell'ambito di quei reati di solo pericolo. Pensiamo ad esempio al caso dei reati previsti dal codice della strada, il caso di guida in stato di ebrezza o in stato il caso di guida sotto l'influsso di sostanze psicotrofe. In questo caso non c'è nessuna vittima, certo, però la vittima chi è? Se vogliamo uscire da una dogmatica penalistica, la vittima è l'intera società che è stata posta in uno stato di apprensione, in uno stato di inquietudine. E qui la giustizia riparativa si applica e si attua proprio mediante una ricucitura delle relazioni tra colui che ha creato un pericolo e la cerchia sociale, gli osservatori che sono stati posti in pericolo, si sono messi in pericolo e che devono essere nuovamente rassicurati. Nessuna strategia come quelle individuate da Mauro Barbi riguardano la giustizia retributiva, perché la giustizia retributiva poggia quasi esclusivamente su una doppia colpevolizzazione dell'offender. Vi è da una parte una colpevolizzazione che potremmo definire formale, l'attivazione delle procedure di indagine, il capo di imputazione che viene scritto nei confronti dell'offender, viene sottoposto ad un processo giudiziario al termine del quale si arriva con una sentenza di condanna. E questa può essere indicata come una colpevolizzazione di tipo formale. Ma vi è anche un'altra, forse più invadente, forse più incisiva, un altro livello di colpevolizzazione, che è quella informale, che filtra attraverso, si suscita all'interno della società, per così dire, un diffuso sentimento di rimprovero e di ripulsa nei confronti dell'offender. Quindi viene attivato uno stigma, il che renderà ancora più complicato poi, come vedremo in seguito, anche il processo di riemersione dell'offender, una volta che il processo di colpevolizzazione informale si è sedimentato all'interno del corpo sociale. Quindi nessun altro tipo di strategia occupa la giustizia retributiva, se non quella di attivare una serie di procedimenti miranti a colpevolizzare l'autore di reato o del comportamento antigiuridico. Io credo che siamo proprio in uno dei non-clay, uno dei gangli, uno dei nodi fondamentali delle differenze tra giustizia retributiva e giustizia riparativa. Da un lato il colpevolizzare che è proposto e che è previsto dalla giustizia retributiva. D'altro canto la giustizia riparativa che cosa propone? Ripropone la responsabilizzazione dell'offender. E sono due procedure sia da un punto di vista giudiziario, sia da un punto di vista giuridico, ma anche da un punto di vista filosofico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista relazionale completamente diverse. Io vorrei soltanto fare un esempio. Come l'uomo medio reagisce nei confronti della colpevolizzazione? Di primo a Chito l'uomo medio nei confronti della colpevolizzazione agisce con tecniche di allontanamento da sé di questa colpevolizzazione, agisce con tecniche difensive di giustificazione e quindi si crea la dialettica di carattere giudiziario. Nell'ambito della giustizia riparativa siamo di fronte a veramente una rivoluzione copernicana perché da un lato non colpevolizziamo in modo da attivare quelle che sono strategie difensive e minimizzanti o de-responsabilizzanti in capo all'offender. D'altro canto con la responsabilizzazione o con il procedimento di responsabilizzazione intendiamo un evento, un processo che si traduce in una presa di coscienza psicologica e sociale a seguito di un attento lavoro di inside compiuto dall'offender. Pertanto se la colpevolizzazione proviene esclusivamente dall'esterno attraverso il capo di imputazione e attraverso la riprovazione sociale e molto spesso viene rimbalzata dall'offender, la responsabilizzazione è una strategia comunicativa che vuole suscitare in capo all'offender una forte rimeditazione circa la violazione commessa e naturalmente auspicando anche una revisione critica del proprio comportamento precedente e un auspicio che non si ricada più cioè che si abbatta la recidiva e non si ricada più in questo comportamento tenuto in precedenza. Ecco allora all'inizio di questa conversazione io ho fatto riferimento alla giustizia retributiva e l'ho definita reato centrica ma l'altra questione con la quale possiamo l'altra cosa con la quale possiamo definire la giustizia retributiva che ha una concezione carcero centrica anche per cui lo scopo, il senso, quell'elemento di rassicurazione al quale faceva riferimento prima Mauro Bardi in realtà nella concezione della giustizia retributiva lo si realizza separando l'offender non solo dalla vittima ma anche dalla società civile di riferimento dalla sua comunità e quindi la risoluzione del conflitto dovrebbe essere raggiunta esclusivamente con l'applicazione della legge penale. Non vi è altro margine di trattativa per così dire all'interno della giustizia retributiva se non quella di tentare come elemento di rassicurazione separare l'offender, quindi separare l'autore di reato o l'autore del comportamento antigiuridico separandolo e torniamo alla spada alla quale abbiamo fatto riferimento all'inizio di questa conversazione separandolo non solo dalla vittima ma separandolo anche da un contesto sociale e questo come vedremo successivamente rende ancora più complicata la sua emersione e come dire la restituzione dell'offender alla sua comunità di riferimento. Eh sì Luigi tu hai parlato giustamente della giustizia retributiva che ha la funzione di imporre ordine magari ordine da un lato però forse non sicurezza ma questo è un altro questo è un altro discorso che ci ha occupato in lavori precedenti. Da un lato imporre ordine e dall'altro lato eh rispondere alle ansie della società che eh sono state cagionate dal reato commesso. Eh se mi permettete una una divagazione un po' metaforica la giustizia retributiva ha la funzione del del valium o ha la funzione di un tranquillante ma noi sappiamo bene che i tranquillanti hanno le gambe corte hanno un'azione molto limitata e dopo che è passato l'effetto dei tranquillanti la società torna di nuovo ansiosa. Pertanto invece di rispondere eh all'ansia e invece di somministrare tranquillanti la giustizia riparativa ha una ha un target ha uno scopo ha degli obiettivi forse utopistici forse eh molto alti però estremamente interessanti più che eh rispondere all'ansia pacificare la società riconciliare l'offender con la vittima e riconciliare l'offender con la società. C'è un altro elemento che ha suscitato Luigi e che io vorrei sviluppare. Lui ha parlato del conflitto. La giustizia retributiva si illude di abolire il conflitto con l'applicazione della legge penale. Quindi da un punto di vista eh catartico l'applicazione della pena mette fine al conflitto. E questa è una eh è una prospettazione ed è un'idea abbastanza sotto certi aspetti ingenua perché da un lato il conflitto non può essere del tutto abolito perché il conflitto fa parte delle dinamiche relazionali umane fa parte delle dinamiche sociali e invece di abolire il conflitto la giustizia riparativa si propone un un target un obiettivo eh forse meno meno ideale ma molto più pratico superare il conflitto superare il conflitto che è stato creato dallo strappo abbiamo visto lo strappo comunicativo sociale relazionale patrimoniale per trovare un nuovo assetto tra le parti che preveda alle stesse di continuare a vivere al di là della violenza al di là del conflitto al di là della violazione della norma. Pertanto la giustizia riparativa non vuole abolire i conflitti ma vuole di volta in volta superare i conflitti e qui anticipo una parola che diventa una keyword per quanto riguarda la giustizia riparativa mediare i conflitti mediare i conflitti non significa abolire tacitare i conflitti ma significa trovare un nuovo assetto che superi quel conflitto. Ed eccoci ad un altro aspetto della giustizia retributiva. Ora eh intanto va chiarito con una certa come dire con una certa tranquillità che non solo non c'è relazione tra sicurezza e ordine ma non c'è neanche nessuna relazione tra sicurezza e pena. Eh viceversa la giustizia retributiva ipotizza quindi ha una sorta di 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 paradigma e ipotizza che invece il carcere la quella concezione carcerocentrica eh possa contribuire a rendere la società più sicura. Beh e e come pensa la giustizia retributiva di raggiungere questo questo obiettivo? Lo dicevamo anche prima intanto isolando l'autore di reato o l'autore del comportamento antigiuridico e eh si ipotizza che egli possa rielaborare eh criticamente la violazione commessa in un regime diciamo di isolamento quindi eh lo si toglie da un contesto si immagina che la sua riflessione quindi la sua autoresponsabilizzazione l'assunzione di responsabilità possa maturare in una struttura che in qualche modo separi ulteriormente l'offender dalla sua comunità. In altri termini eh la giustizia retributiva ritiene che eh una volta preoccupatasi di mettere l'offender nella condizione di non poter più nuocere alla società civile questo passaggio possa in qualche modo essere un elemento come abbiamo detto un attimo fa di grande rassicurazione sociale. Eh è una impostazione che la giustizia retributiva mantiene praticamente eh da sempre e al di là invece di tentare altre strade eh si ipotizza che eh l'autore di reato possa essere neutralizzato anche da un punto di vista sociale quindi la concezione eh reato centrica da una parte eh la vocazione carcero centrica dall'altra dovrebbe essere utile a lanciare messaggi di rassicurazione alla comunità di riferimento. La prospettazione e le idee di fondo della giustizia riparativa si pongono eh nell'ambito di un orientamento che veda una abolizione graduale delle pene detentive, un'abolizione graduale del carcere e questo per due motivi, per un motivo di carattere teorico perché mediante l'isolamento dell'offender dalla vittima e dalla società non si ottiene quella ricucitura degli strappi di carattere relazionale, di carattere emotivo, di carattere psicologico, di carattere sociale ai quali avevano fatto eh riferimento in precedenza e questo è un motivo cioè non è uno strumento adatto volto il carcere a superare i conflitti e trovare nuovi assetti relazionali tra le parti ma c'è anche un motivo di carattere eh pratico. Il carcere notoriamente è la fabbrica della insicurezza sociale. Il carcere è la fabbrica della recidiva. I tassi di recidiva per coloro che hanno scontato una pena muraria sono altissimi. I tassi di recidiva per coloro che hanno intrapreso un certo eh percorso di giustizia riparativa mediante le misure alternative è piuttosto basso, è piuttosto contenuto. Eh anche perché il carcere isola il soggetto, isola l'offender, lo pone in una eh situazione con in una relazione solipsistica con se stesso da un lato oppure lo pone in una relazione disfunzionale con altri soggetti che hanno commesso a loro volta dei reati. Quindi eh è chiaro che confrontarsi continuamente il deviante con i devianti potrà produrre ulteriore devianza. Poi c'è da dire anche un'altra un'altra cosa. Una forse una considerazione di carattere storico. Il carcere è tipico, il carcere è un'invenzione, è uno strumento piuttosto recente eh perché gli antichi non conoscevano il carcere, gli antichi conoscevano pene molto più afflittive o pene molto più più drastiche, più fisiche. Il carcere è tipico eh della prima rivoluzione industriale e il carcere è sempre stato, ha sempre funzionato parallelamente ad una società di carattere industriale dove coloro che eh erano inabili al lavoro industriale venivano portati in carcere, si sperava di emendarli per porli nuovamente nell'ambito della produzione industriale. Ebbene noi non siamo più realisticamente in una fase, in un periodo, in un'epoca di carattere industriale. Siamo in un'epoca, in un periodo anche da un punto di vista socio-economico di carattere post-industriale, dove le attività produttive sono molto diversificate, sono molto più fluide, dove il carcere una volta era il corrispettivo eh penale della fabbrica, dove in fabbrica, nella fabbrica fordista c'era una certa disciplina e nel carcere c'era una certa disciplina. Dobbiamo trovare un modo di sanare i conflitti e sanare le disfunzioni comunicative e rispondere ai reati che sia al passo con una società post-industriale, con una società molto più complessa, con una società nella quale prevarrà sempre più l'agire comunicativo rispetto all'agire strategico o all'agire strumentale. Altro cardine sul quale eh si basa la giustizia retributiva è proprio quello di evitare qualsiasi relazione fra l'autore di reato, la sua vittima e il contesto sociale di riferimento. Guardate che questa separazione non interviene soltanto durante l'ispiazione della pena, ma interviene anche in larga misura in un ambito processuale. Eh la la vittima scompare quasi del tutto. Il contesto sociale non ha alcun rilievo all'interno dell'iter processuale che ancora una volta ha come unico punto di riferimento l'applicazione della legge penale. Quindi la separazione dell'autore di reato sia dalla sua vittima eh sia appunto dal contesto sociale di riferimento eh inizia già in ambito processuale. Quindi prima ancora che ci sia eh una sentenza, prima ancora che ci sia la quantificazione della pena. Eh questo livello di separazione poi continua durante il regime detentivo. Eh la giustizia retributiva ha sempre reso di molto complicato di colloqui tra il detenuto e i propri familiari. Non vi è alcuna idea eh rispetto al ruolo che invece la vittima dovrebbe poter giocare all'interno sia dell'ambito processuale sia nella durante l'iter di espiazione della pena. Per cui quello che la giustizia retributiva ritiene eh suo compito e ritiene anche di avere esaurito eh il 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 suo compito nel momento in cui eh l'autore di reato in un regime di solitudine, in un regime di separazione dal resto della della del contesto deve eh continuamente confrontarsi con eh la violazione che ha commesso e tutto questo nella convinzione che il percorso possa portare poi ad una forma di riabilitazione o ad una forma di restituzione alla società dell'offendere una volta che abbia maturato la sua responsabilità ma attenzione qualora avesse maturato la sua responsabilità comunque l'applicazione della sanzione deve avere il suo corso. Quindi non ci si preoccupa nemmeno di questo aspetto qui eh per chiudere questa prima tornata si può ribadire ancora una volta che innastratto la funzione della giustizia retributiva nasce e si esaurisce con l'applicazione della legge penale. Eh sì Luigi vorrei proprio eh rifarmi, riagganciarmi alle alle considerazioni molto opportune che hai svolto. Eh e notare che la giustizia retributiva, la giustizia muraria, la giustizia carceraria non soltanto separa eh l'offender dalla società prima eh della sentenza di condanna, dopo la sentenza di condanna con l'esecuzione ma eh purtroppo nei fatti si verifica eh l'effetto perverso che anche una volta scontata la pena l'offender rimane sempre un offender e rischia sempre di rimanere un separato e un isolato dalla società e quindi chi viene isolato dalla società delle persone per bene dove si rivolge? Si rivolge alla società delle persone per male. Quindi e questo è un altro effetto recidivante della della pena carceraria. Pertanto la giustizia riparativa si in definitiva si si pone non di escludere il l'offender dalla società e di escludere l'offender dalla relazione con la società che è stata posta in pericolo e escludere l'offender dalla relazione con la vittima ma anzi porre a confronto l'offender con la vittima e porre a confronto l'offender con la società che è stata posta in pericolo. Io eh qui siamo all'ultimo punto di questa nostra prima tornata spero che eh gli ascoltatori abbiano compreso eh gli spunti le idee che ho proposto eh è chiaro che eh devo dire che la giustizia riparativa può sembrare di primo acchito un po' viziata da eh estrema strattezza estrema estrema vaghezza mentre invece la giustizia retributiva è molto determinata è molto comprensibile reato carcere le cose che vi ho che vi ho riferito possono sembrare ehm viziate da una certa strattezza da un certo idealismo qualcuno direbbe anche viziate da un certo buonismo vi assicuro che non è così anche perché le prassi di giustizia riparativa sono molto concrete e eh puntano non ad una eh ad un esorcismo del male con un altro male ma puntano al superamento degli effetti che il reato ha prodotto. Superamento concreto. Ringraziamo quindi i relatori per questa meravigliosa dissertazione molto ricca di spunti e colgo l'occasione per rispondere alle domande tecniche che sono state poste nella chat. Dunque per quanto riguarda le slide saranno a disposizione insieme alla registrazione quindi confermiamo che la registrazione sarà disponibile e le slide quindi saranno all'interno. Cogliamo già l'occasione per invitarvi al prossimo appuntamento quindi il prossimo venerdì venerdì undici alla stessa ora per terminare appunto questa dissertazione quindi per avere un quadro completo di questi due modelli di giustizia e restiamo naturalmente a disposizione qualora ci fossero ulteriori domande. Bene anch'io voglio ringraziare tutti Marzia Tosi per aver condotto molto molto bene la sessione so che il compito non è stato facile perché comunque far funzionare tutto e perché tutto vada bene ci sono state tante prove Luigi Caracciolo e Mauro Bardi incredibili come sempre. Vi aspettiamo davvero tutti al secondo incontro per finire come diceva Marzia questa bellissima trattazione, questo confronto tra i due modelli di giustizia e sì abbiamo registrato quindi verrà poi reso tutto disponibile in un secondo momento. Quindi avete visto che il modello che abbiamo proposto è un modello comunque molto fruibile, veloce, non troppo lungo e faticoso da sentire quindi questa sarà un po' la modalità dei nostri webinar, ce ne saranno sicuramente altri anche nel 2021 e andiamo avanti su questa strada tracciata che mi sembra molto molto proficua e interessante. Vi ringrazio da parte di Associazione Libra e di tutti i partner del progetto Mediazioni e ci vediamo prossimamente. Grazie. 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 Grazie.